Immerso nel verde e costruito utilizzando parte della struttura del castelletto di Vezzano, in un luogo quasi surreale troviamo il Modern Automata Museum. Il museo è nato nel 2001 per iniziativa di Guido a Cascina, che lavora dal 1981 come costruttore di aquiloni e giocoleria, laboratorio presente nella medesima struttura. Una manovella dà il movimento agli automi, piccole sculture meccaniche realizzate in carta, legno o metallo, creature curiose e fantastiche, ospiti del museo. La parte inferiore è in genere meccanica, mentre la superiore è una piccola opera d'arte che racconta una storia, una somma delle parti che va oltre se stessa. Gli automi diventano così rappresentazione del rapporto tra razionalità e fantasia. Ogni macchina è un piccolo racconto, spesso ironico, e può essere paragonato agli haiko giapponesi. Una piccola visione del mondo in un giro di manovella. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.